Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Buongiorno dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio pareggio per i Granata al Grande Torino contro l'Empoli nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A un 2-2 condizionato dall'espulsione di Singo con il toro rimontato di due reti dai Toscani nella giornata in cui a mezzanotte si festeggiavano i 115 anni del club il bicchiere è mezzo pieno Granata avanti con Pobega e Piacca dopo l'espulsione di Singo si fanno però raggiungere da Romagnoli e Lamantia al trentesimo l'episodio clou l'espulsione di Singo che trasforma una partita fino a quel momento comoda per il Torino che vede protagonista il giovane Evoriano che ferma con un fallo di Francesco lanciato a rete direttamente da un lancio lungo del portiere da rivedere nella circostanza la retroguardia Granata che si fa trovare impreparata in casa Juve domenica alle 20.45 si ospita il Genoa Bonucci e Morata saranno titolari dall'infermeria non arrivano buone notizie né per De Sciglio né per McKennie entrambi hanno lavorato ancora a parte Bonucci dovrebbe tornare accanto a De Ligt sempre più leader in campo e in difesa mentre a centrocampo Bentancur potrebbe dar seguito all'ultima buona prestazione accanto a Locatelli un 4-2-3-1 e largo ai giovani vanno all'asta i trofei vinti dall'Auxilion Basket Torino la società è fallita nel 2019 il 25 dicembre sul sito della casa Sant'Agostino Asten vendita coppe, medaglie e targhe si partirà da una base di 50 euro è tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez